Il grande business della droga garantiva guadagni stellari che si aggiravano sui 15.000 euro al giorno, numeri da grande azienda insomma, ma era gestito tra le mura di casa e direttamente in famiglia. Una sola famiglia, padre, madre e figlio, a capo di un'organizzazione capace di monopolizzare lo spaccio di cocaina e marijuana in una delle principali piazze catanesi. La scoperta è dei carabinieri del comando provinciale che con l'operazione Camaleonte hanno smantellato la banda a conduzione familiare. Il blitz, che è stato coordinato dalla DIA e ha visto in azione circa 200 militari, ha portato a 26 ordinanze di custodia cautelare, 17 delle quali notificate in carcere a persone già detenute. Sono scattate invece le manette per la famiglia, capo dell'organizzazione Giovanni Ventarolo, Graziella Fiamingo e il figlio Giuseppe. I tre tenevano le fila di un business di tutto rispetto in una delle piazze più redditizie dello spaccio di droga in città, quella di San Giovanni Galermo, teatro di un'altra vasta operazione antidroga alcuni mesi fa. I tre avevano messo su una sorta di azienda dello spaccio che aveva la sua base operativa a casa loro al civico 33 di via Capopassero e poteva vantare un fatturato giornaliero da 15.000 euro. Le indagini avviate un anno fa hanno svelato anche un altro particolare. Erano le donne infatti personaggi chiave della banda, cinque quelle finite in manette, tutte residenti nello stesso stabile della famiglia Ventarolo e proprio per questo erano state arruolate come custodi delle sostanze stupefacenti. Erano loro a nascondere quantitativi di droga nelle loro case e a gestire i rapporti con i fornitori e talvolta anche con gli stessi clienti, inventandosi anche un modo rapido ed efficace per le consegne o per il rifornimento ai pusher in strada. Le dosi venivano spesso lanciate direttamente dai balconi di casa, come documentato anche dalle immagini delle telecamere nascoste dei carabinieri.